Gigi ha fatto una cosa brutta di rovinare gli scudetti della Juve, volevo dirglielo che se lo possono attaccare, si possono attaccare anche le due Champions, si possono attaccare anche il 34, quant'è il 34 lo scudetto che vi autoriconoscete, anzi ho qua un bel 77, non si sa mai che vi portate in avanti e la coppa del 2003, questa è bella, siccome l'artista sono stato io, questi vanno all'asta, facciamo parlare Emanuela e poi giriamo a parte di India sull'Inter, io martedì prossimo per rispondere ad Alessandro, visto che siamo carini sia io che Gabriele, portiamo quattro signori giapponesi, non cinesi, giapponesi che ci hanno detto di essere quelli nascosti dietro al closing, vero Gabriele, quindi le partiremo martedì per appunto così. Anche perché poi, non dico tutto come ho fatto prima, visto che Alessandro è stato così gentile che mi ha regalato la coppa eccetera eccetera, guardate lo sguardo. Io gli ho regalato finalmente un numero 10 all'altezza del mio. Adesso prima parlava di giapponesi, prima parlava di giapponesi Emanuele, invece dei cinesi gli regaliamo il giapponese. No, ma l'hai fatto tu. L'ho fatto io. Qua c'è ancora la tua. Qua c'è ancora la tua. Qua c'è ancora la tua. Qua c'è ancora Maria della New Team, però numero 10 all'altezza numero 10 all'altezza del mio. Bravo! Bravo! Dammi il pennarello nero, dal nostro rionda va bene. Prendo volentieri. Ho disegnato molto bene. Per questione, proprio per chiudere la polemica. La Juve, dimmi quanti scudetti vuoi, dimmi un numero, dimmi un numero. 88. 88. 88. 88. Ecco, appenditi pure questo nell'armaglietto. Perfetto. È l'importante che voi non lo scarabocchiate. Mi raccomando, tenetevi il numero 10. Ma sai che cosa? Io ho pensato anche, parlando con la dirigenza, mettiamo tutte le nostre coppe nello spogliatore della Juve la prossima partita. Poi ho pensato dove fate la... Non ci state più. Non ci state più. Dovete cambiarvi nelle docce. Alessandro Copponi mi fa un regalo in diretta, perché io vorrei cortesemente, guarda, ce l'ho io. Ce l'hai tu il pennarello. Cioè, io ho chiesto cortesemente se mi regali la coppetta della Juve, se mi fai un autografo davvero in diretta. Sì, sicuramente. Bravo! Ad Alex con simpatia. Da!